Grazie a tutti! La piazza tremava tutta, una grande soddisfazione, una gioia per noi dell'associazione e per l'intero paese, ha ribadito il presidente dell'associazione Amici di Nino. Stiamo migliorando di anno in anno, abbiamo raddoppiato le presenze rispetto allo scorso anno. In effetti la manifestazione ha registrato la presenza di 500 persone, 500 presenze in piazza che hanno ballato e cantato. Questo sarà di stimolo per le future edizioni, ribadiscono gli organizzatori. Al termine della serata la festa è continuata all'interno del bar cittadino. E poi i bagnoni sono proprio belli, fassonno brindisi alli gemelli. Nero, 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 la, la, la. Quanti colori, quanti colori, nero. Grazie a tutti. Grazie a tutti.